Musica Federica Fossa, numero 5, tesoriere del club sportivo Urania, seconda posizione per la formola Marese, terza se va al numero 5. Dai che ce la fai, dai che ce la fai, dai che è di prima. Ultime palazze per Federica Fossa che in solitaria va a tagliare il traguardo del singolo a Iene. Seconda posizione per Giorgia Campini, se è iniziale, Alice Sampiore. Sampiore, grazie a tutti. Grazie a tutti.